Buongiorno telespettatori di Telequattro e benvenuti a questa edizione diretta, a questa diretta che come sempre anticipa il telegiornale delle 13 e 20. Andiamo subito a questa intervista che appare con il Presidente della Regione Fedriga, in Europa la Lega sappia dialogare con il Partito Popolare Europeo nel 2023 mi ricandiderò, questo dice Fedriga. Fra l'altro vi dico subito che questa sera a partire dalle 21 noi trasmetteremo il tradizionale ormai discorso di fine anno del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e sarà l'inizio della nostra serata dedicata all'ultimo dell'anno. Dopo Fedriga seguirà uno speciale macete e quindi a partire dalle 22 e 30 il concerto di Capodanno del Teatro Verdi. Di questo parleremo intorno alle 13 e 40, insomma più o meno dopo la fine del telegiornale delle 13 e 20 con il sovrintendente del Teatro Verdi Stefano Pace che sarà nostro ospite. Quindi ancora una volta Telequattro starà assieme ai triestini e cercheremo di farvi passare un ultimo dell'anno che sarà sicuramente particolare come ormai tutti gli appuntamenti tradizionali da marzo di quest'anno in poi, ma insomma cercheremo di farvelo passare in maniera sicuramente allegra e sicuramente frizzante, ripeto, a partire dalle ore 21 con il discorso, il saluto di fine anno del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Allora già che ci siamo andiamo avanti, cioè incominciamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani, Corriere della Sera e Repubblica in primis, tra l'altro se volete intervenire il numero è 040 31 39 93, svegliatriestechiocciolatele4.it, l'indirizzo di posta elettronica dove inviare le vostre osservazioni, i vostri commenti, quindi stavolta me la sono cavata, non ho sbagliato. Allora, nuovi record di morti negli Stati Uniti e in Brasile, si ricomincia a parlare del Brasile, in un po' di tempo che non si sentiva, in Cina primo caso di variante inglese, il bollettino di ieri parla di 16202 nuovi casi e 575 decessi. Cenone, seconde case, coprifuoco e botti, i divieti per il Veglione, c'è anche in questo caso il Corriere della Sera propone un grafico e poi attenzione perché oggi siamo tornati nuovamente in zona rossa, dunque cosa si può fare e le regole per la notte di Capodanno. Ancora scendiamo sulla pagina online del Corriere della Sera, questa sera c'è anche il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella e anche noi lo seguiremo, credo a partire dalle 20.30, di questo però magari chiederò meglio alla regia, dai vaccini al Recovery Fund le sfide nel messaggio di fine anno di Mattarella. Se si votasse oggi, Camere al centro-destra, ma l'asse PD, Movimento 5 Stelle, potrebbe ridurre lo scarto. Conte, se un partito lascia crisi in aula. Allora ci sono due scenari, centro-sinistra e Movimento 5 Stelle corrono separati e in questo caso il centro-destra avrebbe 222 seggi e il centro-sinistra ne avrebbe 123. Se invece vi fosse una sorta di intesa centro-sinistra e Movimento 5 Stelle, i giallorossi avrebbero 168 seggi e il centro-destra ne avrebbe 212. La manovra è legge, bonus auto, assegno per i figli, 800 Euro a partita IVA. Qui di nuovo speranza il ritorno a scuola è la nostra priorità, ma dopo la Befana il coprifuoco resta. Il Ministro dell'Interno, la Morgese, a Capodanno, controlli inflessibili, riforme per superare i ristori. scendiamo ancora. I 12 campioni dello sport che ci hanno emozionato di più nell'anno più triste, il lavoro dissolto, la crisi economica sarà ancora miracolo a Milano. Trump sarebbe furioso con la moglie per il nuovo arredamento di Mar-a-Lago. La rabbia per la sconfitta si abbatte sulla First Lady, il Paese spiazzato dalla pandemia, il Presidente accusato di passare il tempo a giocare a golf e a litigare sul mobilio. Morto Samuel Little, più feroce serial killer degli Stati Uniti, confesso 93 omicidi. Poi ancora si torna sull'omicidio di Agitu Gudetta, la confessione del suo dipendente l'ho colpita con il martello. Le onde estreme del mare del nord in tempesta viste dal capitano della nave. Vediamo se possiamo vedere anche noi questo video. Logicamente dobbiamo stare attenti adesso perché il video partirà, credo, come ormai siamo abituati, dopo la pubblicità. Ah no, parte, sembra che parta subito, in realtà mi pare che non parte assolutamente, pareva. Allora questo partirà dopo la pubblicità, rientriamo un attimo, eccoci. Allora, una nave finisce dentro una forte tempesta nel mare del nord. Adesso vediamo appunto queste immagini, eccole qua. tutto questo bianco, ecco, queste sono appunto le immagini. È già finito? Ah, 12 secondi, vabbè. Ma boh. Allora andiamo sulla Repubblica che mi sembra meglio, francamente. Adesso apriamo subito la pagina, vediamo. Dov'è? Eccola, dovremmo averla. Eccoci qua. Allora, l'Italia torna in zona rossa, le regole del Capodanno a prova di coronavirus, tutte le dosi nei 203 ospedali, al via la vaccinazione di massa, due iniezioni a sette giorni di attesa, due iniezioni che è sette giorni di attesa, le tappe che portano all'immunità. E poi, brusaferro, la curva dei contagi è in decrescita, bisogna continuare con il rigore. Vediamo se ci sono, se è più ampio rispetto a quello del Corriere. Ci sono le regioni, diciamo così, in difficoltà, sarebbero Liguria, Veneto e Calabria, mantenere le restrizioni relative ai livelli di rischio anche dopo le feste. Questo dice brusaferro. Le altre due regioni, diciamo, che si troverebbero in difficoltà sono Puglia e Basilicata. Dunque queste sono regioni, chiamiamole, attenzionate in qualche modo. Qui invece Norvegia, enorme frana, travolge un villaggio, una casa precipita nel lavoragine, anche qui lo vediamo subito dopo la pubblicità, una frana travolta un villaggio norvegese a circa 25 km a nord-est di Oslo. Secondo quanto riferito sarebbero decine i dispersi. Adesso la pubblicità è finita, per cui potremmo partire con le immagini. Dovremmo vederle. ecco, questa è l'immagine di questa casa che è precipitata appunto in questa voragine. Ok, ma non si vede benissimo, se devo essere sincero. Intanto, per esempio, vi anticipo, parlando purtroppo di avvenimenti di avvenimenti di questo genere, il numero di scosse che si sono verificate, che sono state registrate, il numero di scosse di terremoto che sono state registrate in Croazia negli ultimi tre giorni, tocca quota 119 e anche questa mattina ci sono state tre scosse piuttosto, diciamo così, piuttosto importanti. Vediamo di recuperare ancora parte della prima pagina online di Repubblica. Londra alle 23 il Big Bang suonerà, vediamo se per l'addio del Regno Unito all'Europa, da Farage a Johnson, i sei personaggi che hanno fatto la Brexit, vediamo se c'è anche allora Nigel Farage, ecco David Cameron, il responsabile è lui, perché quando si parla appunto di Brexit bisogna sempre ricordare che da primo ministro durante la campagna elettorale del 2015, Johnson promise il referendum sulla Brexit, essendo probabilmente certo che avessero vinto i sì. Questo signore dalla lungimiranza politica veramente da manuale è sparito dalla scena pubblica, però continua ad andare in giro per il mondo, adesso probabilmente il coronavirus l'aveva fermato, ma comunque fino a quest'anno continuava ad andare in giro per il mondo tenendo conferenze e venendo anche pagato profumatamente come succede a molti ex leader. Quindi Farage, l'ex primo ministro Cameron, Teresa May che si è rivelata veramente un fuoco di paglia imbarazzante, James Corbyn, leader dei laboristi che non è riuscito a scaldare i cuori degli inglesi con l'Europa unita, anche perché lui stesso è stato piuttosto freddo in tal senso e poi Boris Johnson che è quello che è, poi anche Nicola Sturgeon che ad onta del nome è una signora ed è credo la premier del governo autonomo di Edimburgo e sapete che ci sono anche tutte le premesse perché la Scozia a questo punto chieda un referendum per staccarsi dal Regno Unito, già c'era stato un referendum in tal senso credo nel 2014, se non mi sbaglio che aveva dato esito negativo, però se si votasse adesso probabilmente l'esito sarebbe probabilmente diverso. Torniamo ancora giusto un attimo al Corriere della Sera, poi andremo in pubblicità, vediamo se ci sono delle novità, no non c'è niente di nuovo per quanto riguarda appunto il Corriere della Sera, la pagina online del Corriere della Sera. Ancora ripetiamo, speranza, ritorno a scuola è la nostra priorità, ma dopo la Bifana il coprifuoco resta il Ministro, l'EMA deve fare chiarezza su AstraZeneca, senza certezze si riduce la disponibilità di dosi a breve. Questo allora per quanto riguarda i giornali, vi ricordo che domani i giornali non sono in edicola e a questo punto direi che possiamo dare la linea alla pubblicità, poi torniamo con il telegiornale. Dopo il telegiornale sarà con noi il sovrintendente del Verdi, il dottor Stefano Pace e ancora dalle 14 alle 14.30 ci sarà Andrea Blau della CIS, della Fisaskat CIS. Pubblicità, poi torniamo con il telegiornale. Buongiorno telespettatori Telequattro e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Non si ferma lo sciame sismico che nelle ultime ore ha sconvolto la Croazia. Nel Paese stanno arrivando gli aiuti internazionali, lutto nazionale sabato 2 gennaio, le offerte raccolte domani, giornata della pace nelle chiese triestine, saranno destinate alla diocesi di Sissak. Il servizio. Sono 119 le scosse di terremoto che nelle ultime 72 ore si sono abbattute sulla Croazia. Quella più devastante è martedì scorso le 12.19, magnitudo 6.2, che ha letteralmente raso al suolo il centro storico di Petrigna, causando gravi danni anche a Sissak, Glina e Zagabria, e che ha provocato la morte di 7 persone, tra cui una ragazzina di 12 anni. Alle 9.15 di oggi, epicentro 10 km a ovest della cittadina più colpita, un'ulteriore scossa, magnitudo 3.9, di poco superiore a quella delle 4.33, magnitudo 3.7. Qui ha fatto seguito un ulteriore sciame, con la scossa più forte alle 5.24, magnitudo 3.1. Nelle zone sconvolte dal sisma stanno arrivando gli aiuti internazionali. Il nostro paese ha disposto l'invio di 100 tende da campo per fronteggiare l'emergenza. Le prime 50 sono state messe a disposizione proprio dal Friuli Venezia Giulia e sono partite fra martedì e ieri, anche grazie ai volontari della protezione civile. Stamagna Glina sono arrivate le prime case mobili per gli abitanti della cittadina che hanno perso tutto. Sono 84 le strutture assicurate nella regione di Sissak, donate da una cordata di aziende private. E proprio alla diocesi di Sissak saranno devolute le offerte raccolte nelle chiese triestine domani, in occasione della giornata della pace, secondo l'intenzione dell'arcivescovo Monsignor Crepaldi, che già martedì aveva espresso la vicinanza della chiesa triestina alle popolazioni colpite da quanto accaduto. La Croazia ha decretato per il 2 gennaio una giornata di lutto nazionale. Asugi informa che sono state sottoscritte le ipotesi di accordo tra l'azienda e le organizzazioni sindacali per la definizione complessiva delle risorse aggiuntive regionali 2020 per l'incentivazione del personale della dirigenza area sanità e della dirigenza professione tecnica e amministrativa in coerenza con le indicazioni di cui agli accordi regionali di riferimento per ciascuna area. Le parti hanno stabilito di utilizzare una quota delle risorse del fondo per la retribuzione di risultato per la valorizzazione di tutte le professionalità coinvolte e delle attività svolte. La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un motivo di grande soddisfazione perché esprime il riconoscimento dell'importante lavoro svolto in quest'ultimo anno da tutti i professionisti coinvolti che si sono dedicati senza sosta ad affrontare l'emergenza coronavirus, ha detto il vicepresidente della regione e assessore alla salute Riccardo Riccardi. Adesso occupiamoci di cronaca, vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. È piuttosto intensa l'operatività dei carabinieri di Trieste chiamati a intervenire su più fronti. Nei giorni scorsi la segnalazione di una cittadina, dubbiosa circa la conformità di alcune mascherine FFP2 acquistate in un negozio di Trieste gestito da un cittadino cinese, ha portato ieri gli uomini del Nasti Udine a un controllo. I militari, procedendo alla verifica dei vari prodotti in vendita, hanno rivenuto oltre 340 mascherine FFP2 irregolari, prive di certificazioni e indicazioni in lingua italiana. I dispositivi del valore di circa 3.000 euro sono stati sequestrati, mentre al titolare dell'esercizio è stata combinata una sanzione amministrativa di oltre 20.000 euro. Sempre ieri, i carabinieri delle radiomobili di Eurisina, nel corso di un servizio di retrovalico svolto a Fernetti, hanno arrestato per evasione un cittadino rumeno di 27 anni. Dopo aver fermato un'auto con targa rumena in uscita dall'Italia, procedendo al controllo dei tre occupanti, il conducente ha subito cercato di mostrarsi smarrito, chiedendo se si trovasse già a Roma o se mancasse ancora molto per arrivarci. Ha poi cercato di spiegare ai militari di essere diretto alla capitale, ma di aver probabilmente sbagliato ad impostare il navigatore. Il suo comportamento equivoco è servito solamente a fare insospettire i carabinieri che hanno approfondito gli accertamenti sui tre. È quindi emerso che il 27enne era uscito dalla casa circondariale di Aosta poche ore prima e che si sarebbe dovuto recare presso la sua residenza a Roma, dove avrebbe dovuto espiare una pena residua di un anno e sette mesi in regime di detenzione domiciliare. Alla guida dell'auto il fratello Trentenne è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Roma in compagnia della moglie, nonché la cognata dell'evaso. Il 27enne è stato quindi arrestato per evasione e condotto nuovamente in carcere, questa volta a Gorizia, mentre i due parenti sono stati denunciati per favoreggiamento, avendo cercato di aiutare il loro congiunto a sottrarsi alla pena detentiva. Ancora la radiomobile di Eurisina alle due di questa mattina ha fermato e controllato un'auto. Il conducente ha giustificato il suo transitare a quell'ora in quanto, tirando tardi con la fidanzata, non si è accorto dell'orario di coprifuoco e in più, una volta scoperti dalla madre di lei, non avendo avuto il permesso di dormire in quella casa, si è dovuto mettere in auto per tornare nel suo alloggio, non solo, ma dal controllo dei documenti è emerso che la sua patente era scaduta nel 2013. Per l'uomo doppia sanzione, per guida con patente scaduta e quella per violazione della normativa anti-Covid-19. Parliamo un po' di noi dopo lo straordinario successo in termini di ascolti e di gradimento della diretta natalizia che ha accompagnato i telespettatori nel pomeriggio del 25 dicembre, Telequattro sarà vicina al proprio pubblico anche la sera di San Silvestro. Si parte alle 21 con il discorso di fine anno del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che tracerà il bilancio dei 12 mesi che vanno a concludersi. Quindi uno speciale macete, il fenomeno comico di Telequattro che negli ultimi mesi ha incollato i triestini al teleschermo. Poi alle 22.30 si rinnova la collaborazione fra la nostra emittente e il Teatro Verdi. Andrà infatti in onda il concerto di fine anno per accompagnare in musica l'uscita di scena del 2020 e l'arrivo del 2021. Il concerto sarà presentato proprio da Flavio Furian e Maxino che dunque animeranno la serata di per sé già frizzante con i propri interventi. I brani in programma proporranno autori quali Offenbach, Tchaikovsky, Gunor, Rossini, Verdi, Puccini, Strauss, padre e figlio, nonché una composizione di Marco Taralli. La mezzanotte sarà scandita dalla Radetzky Marsh sul podio Takayuki Yamasaki. Il concerto verrà replicato alle 20 di venerdì 1 gennaio e alle 18 di domani in diretta dalla chiesa di Sant'Antonio e Taumaturgo anche la celebrazione solenne della giornata mondiale della pace con la consegna di un messaggio del Papa alle autorità. Un lavoro per ricominciare dopo la violenza. Il Comune attiva 12 tirocini perché sono salite a 12 appunto dalle due iniziali le donne coinvolte nel progetto formativo promosso dall'assessorato comunale alle pari opportunità. Una conferenza stampa quella di oggi all'insegna della solidarietà, della speranza verso un futuro migliore e dell'empowerment femminile. Permettere alle donne di uscire da una rete di violenza e riscattarsi attraverso il lavoro è l'obiettivo di un'iniziativa portata avanti dall'assessorato alle pari opportunità del Comune con ENAIP GOAP Centro Antiviolenza che vede 12 donne coinvolte in tirocini a tempo determinato in varie aree del Comune di 20 o 30 ore settimanali e della durata dai 3 ai 6 mesi. Siamo stati il primo Comune in Friuli Venezia Giulia ad attivare questo progetto, ad attingere al Fondo Sociale Europeo e ad attivare dei tirocini verso donne in stato di fragilità, in difficoltà. Nel mese di giugno il progetto è partito, è stato un progetto pilota ed è stato attivato verso due donne. In quell'occasione avevo promesso che avrei ampliato la rosa di nomi, avrei ampliato le donne da far partecipare e oggi quella promessa è stata mantenuta. Infatti siamo arrivati a quota 12 donne che grazie ai tirocini inclusivi potranno iniziare a lavorare presso il Comune di Trieste. L'Allianz Trieste è chiuso il 2020 vincendo in casa contro Treviso, archiviando una difficile annata con l'auspicio di un 2021 più fortunato. Ieri all'Allianz Dom dunque una buona prova dell'intero gruppo. Buona fine e buon principio, almeno questo si augura a tutto l'ambiente dell'Allianz Pallacanestro Trieste dopo la vittoria di ieri contro i cugini del Delonghi Treviso sul parquet dell'impianto Giuliano. 84-79 il risultato finale per una prova buona per l'intera squadra triestina. Eppure gli ospiti incominciano meglio mettendo a referto più punti degli avversari. Prova ne è il 9-4 siglato da Achele sul rimbalzo. Trieste proprio a quel punto alza la testa, l'asse da Ross Henry più i punti di Delia, spostano i riflettori sugli alabardati che superano nel punteggio i Veneti chiudendo il primo quarto sul 18-14. Una tripla di Achele riporta l'equilibrio sul risultato in apertura di seconda frazione, con la delonghi che si rimette in moto ma che deve fare i conti con un'Allianz attenta a non voler perdere terreno. Chiedere a Grazulis per conferma. Sono ancora i tiri da tre a spingere in alto i trevigiani recuperati puntualmente dalla squadra di casa con un Henry frecciarossa che agita la rete del canestro fino al 41-35. A rientro dalla pausa lunga sono i tiri da tre punti a rubare la scena. Logan dà ossigeno ai ragazzi di Menetti. Henry e la quintana portano Trieste a 50 punti. È una fase questa dove si alternano giocate e punti dall'uno all'altro canestro. I Giuliani vanno sul 58-51 grazie ad Apson. Sokolovski per la delonghi indovina tre punti. Grazulis mette la firma sul 63-57. L'ultimo quarto si apre con Apson da una parte e chillo dall'altra. A rubare la scena l'assist volante di Cavaliero per Alviti. Bravo a portare a più 12 l'allungo per l'Allianz. 74-62. Treviso non ci sta e si avvicina al pareggio con Sokolovski e Carroll. Trieste rimane concentrata e anche grazie alla vecchia guardia chiude in vantaggio ottenendo la vittoria. La truppa di Dal Masson in questo 2020 così difficile può almeno imbracciare lo spumante col sorriso. Buon anno a tutti! Allora prima del meteo leggiamo un lancio ANSA. Non possiamo che ritenere preoccupanti le affermazioni della procura egiziana secondo cui non ci sarebbero prove certe sui responsabili del rapimento, tortura e uccisione di Giulio Regeni. Quello che emerge dalla nota dei magistrati del Cairo è un ulteriore segnale di scarsa collaborazione e questo è inaccettabile. Lo dichiara in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Sabrina De Carlo. Inoltre aggiungere a De Carlo trovo tutto ciò estremamente offensivo non solo per la famiglia Regeni ma anche per il lavoro encomiabile della nostra procura che ha ricostruito nei dettagli gli ultimi giorni di Giulio Regeni al Cairo. Piuttosto che tirar fuori tesi su forze ignote che remano per rovinare i rapporti tra i paesi, conclude la deputata del Movimento 5 Stelle, dobbiamo pretendere dall'Egitto maggiore collaborazione. Allora meteo adesso, la Regione, questa è la situazione generale, rimane coinvolta in una vasta depressione, un fronte atlantico arriverà venerdì e quindi domani e interesserà fino a sabato il fluo di Venezia Giulia con afflusso di aria umida e instabile da sud. Per oggi al mattino cielo da variabile nuvoloso con qualche debole precipitazione locale, in seguito cielo coperto con piogge moderate, più abbondanti sulle prealpi, meno lungo la costa, nevicate oltre i 300-500 metri circa sulle alpi, 700 metri sulle prealpi. Sulla costa soffiera vento moderato da sud. Per domani, no eccolo dov'è, per domani, eccolo qua. Ah no, stavo leggendo per domani insomma, per cui lo ripeto sommariamente cielo da variabile nuvoloso con qualche debole precipitazione locale. Abbiamo intanto, abbiamo recuperato, allora penso che possiamo mandarlo per chiudere questa edizione del telegiornale. Laura Bucarella questa mattina è andata in giro in città e ha raccolto alcune opinioni, diciamo così, dei cittadini su come si apprestano a passare quello che, lo ripetiamo ancora una volta, sarà probabilmente, e ci auguriamo, l'ultimo dell'anno più strano degli ultimi anni. Vediamo allora il servizio di Laura Bucarella. Programmi per questa serata così particolare? Beh, a casa, in famiglia, solamente noi, mio marito, mio figlio. E poi per il resto sarà un anno fantastico e speriamo di tornare in teatro. Niente, una cena tranquilla a casa, anche perché c'è zona rossa e non si può uscire. Capodanno in zona rossa, con il coprifuoco esteso dalle 22 fino alle 7 del mattino e i triestini si adeguano. C'è chi la prende con filosofia e un pizzico di ironia. Sono deciso di andare in discoteca o mangiarmi una pizza, devo essere sincera, è tutto da decidere, ma sicuramente obbito per stare a casa, mi troverò meglio, sicuramente. Ultimi acquisti prima del cenone? Eh sì, a meno quello, mangiare, solo questo c'è rimasto. E chi si organizza in modo originale per non far mancare il divertimento tra amici, anche se a distanza. Questa sera faremo una tombola via Zoom con gli amici di Venezia. Ci siamo ingegnati così, ci hanno mandato delle cartelle e poi quali saranno i premi non lo sappiamo ancora. E adesso la corsa agli ultimissimi acquisti per la cena? Un po' di pane, un po' di pane, niente di più, il resto è già tutto a casa. C'è chi si adegua a malincuore, all'impossibilità di uscire e fare festa. Staremo a casa, in famiglia, i figli e quest'anno va così. Un cambiamento grosso rispetto alle abitudini? Molto, perché di solito stavamo con gli amici, uscivamo e quest'anno più tranquillo, dai. E c'è chi invece non cambia poi di molto le sue abitudini? Assolutamente niente come ogni anno, da qualche anno in qua non facciamo niente proprio, ognuno a casa sua. Saremo in meno, ma insomma staremo in tranquillità, in famiglia, non cambia, se per quest'anno non è un problema. Faremo un brindisi e ci abbraceremo a distanza. Allora, la verità, sempre facevamo in casa, però eravamo tutta la famiglia. Adesso siamo solamente ristretti, ristretti solo noi. Quindi i figli non possono venire, parenti non possiamo essere, diciamo, uniti tutti quanti. La serata noi siamo in tre e la passeremo a casa in tranquillità e abbiamo già organizzato un menù particolare per noi tre e così è un'annata un po' particolare. E naturalmente non manca chi intende aspettare la mezzanotte guardando i programmi di Telequattro. Naturalmente, vi guardo sempre, veramente. Comunque vi faccio tanti tanti auguroni a tutti voi, tutta la redazione. Allora, approfittiamo ancora per ricordare che noi incomincieremo alle 21 con il discorso di fine anno del Presidente Federica, poi uno speciale di macete e dalle 22 e 30 per accompagnare l'uscita di scena del 2020 e l'arrivo del 2021 il concerto di Capodanno del Teatro Verdi. Ci vediamo dopo la pubblicità. Grazie.